Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andiamo ad affrontare Darius nel Canyon. E partiamo subito! Guardiamo come possiamo fare la battola. Ha una versione solo in mente. Mercurio recuperiamo un po', sennò la sua accelerazione è in mezzo. Ciao ragazzi! Passiamo azzurro! Noi, 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 noi. No, 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 così fuori. E andiamo, abbiamo guadagnato 107 punti, 107.000 punti, proviamosi, ecco la sua accelerazione, è difficile prendere punti. E andiamo, dai macchina. No, 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 bene, fuori. No, 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 no. Andiamo. Dai macchina, macchina, vai, vai, vai. No, 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 non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso troppi pochi punti. sull'inizio della retellinia dobbiamo stare più vicini a lui più possibile andiamo andiamo e se la macchina non vale e se la faccia non si lasse a guadagnare e se la faccia non si lasse a guadagnare non si lasse a guadagnare no 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 fuori vabbè vabbè me l'ho guadagnato un bel po' di punte no 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 dobbiamo insieme a battola no 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 No. Dai che l'abbiamo superato. Non so come l'abbiamo fatto ma l'abbiamo superato. Dobbiamo tenerlo dietro. Dobbiamo farlo tenere dietro. E se l'abbiamo fatta, l'abbiamo addirittura superato! Abbiamo sbaccato l'Audi del Mars 4. Bene. Abbiamo battuto Darius. Ora vediamo il filmato. Abbiamo completato il territorio. Abbiamo scompito Darius. Abbiamo scompito Darius. Le chiavi sono dentro. Goditela finché puoi. C'è sempre qualcuno là fuori che è un po' più veloce di te. E che prima o poi ti raggiunge. Vivovi. Un po' più veloce di te lì. Hai vinto. Grazie per aver cercato alla NET4 Speed Carbon. Hai appena sbloccato cinque nuove auto. Tra le quali l'Audi del Mars 4. Provele nelle nuove auto. Nelle gare veloci, il gioco offre ancora molto, cerca di sboccare tutte le missioni delle carte premio, lanciati in una serie di sfide e affronta la modalità carriera con un'altra classe di auto. Andiamo, abbiamo completato la carriera al 97%, perché si manca la gara di drift. Che farò nel prossimo video. Bene, per questo video è tutto, abbiamo completato il gioco, e si sarà ancora un video per finire tutte le partite, qua, tutta la mappa, tutte le partite, e bene, ciao, al prossimo video, ciao!